Il Presidente Grasso ovviamente è semplicemente garante del svolgimento dell'attività del Senato per cui una volta verificate le firme su nostra richiesta in Commissione Capigruppo darà disposizioni per il calendario. Ovviamente il calendario sarà votato dai gruppi per cui poi spingeremo anche gli altri gruppi a decidere su questo tema. È importante dire che tutti i gruppi parlamentari sostengono che le leggi di iniziativa popolare devono essere discusse in tempi certi. Eppure da quando è nata la Repubblica Italiana mai una legge di iniziativa popolare è arrivata a discussione e voto in aula. Mai. Non c'è un caso. Forse potrebbe essere il primo caso. Qui li mettiamo davanti a una scommessa. Non hanno più alibi adesso. Lo hanno scritto nella riforma costituzionale. Benissimo. C'è una legge di iniziativa popolare. Possono applicarla subito. Entro sei mesi la mettano in discussione e al voto.